un giapponese chiama il taxi e chiede al tassista di essere portato in aeroporto mentre stanno in viaggio verso l'aeroporto a un certo punto il taxi viene superato da una motocicletta a tutta velocità e il giapponese fa motocicletta Honda costruita in Giappone molto veloce il tassista fa vintare niente e continua a guidare a un certo punto passa un'altra motocicletta il giapponese motocicletta Suzuki costruita in Giappone molto veloce questo succede ogni volta che passa un veicolo giapponese che sia una motocicletta una macchina finché a certo punto arrivano all'aeroporto il tassista se gira e fa so 300 euro il giapponese fa molto calo tassametro molto calo il tassista se gira fa tassametro giapponese costruito in Giappone molto veloce